Wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi nono giorno, penultimo giorno ragazzi dove voglio farvi vedere 10 deck da usare con il nostro super domatore ragazzi. Oggi andiamo a provare un deck da usare nelle sfide e il deck che vi sto parlando, di cui vi sto parlando, è il seguente. Datemi one sec che si gira, eccolo qua ragazzi. Hog Rider, Palla di Fuoco, Tronco, Fuorilegge, Zap, Mago Elettrico, Peccone e Drago, Inferno. Sono veramente delle carte molto particolari da combinare assieme ragazzi, infatti io non mi fido a giocarlo in Ranked momentaneamente ancora, voglio provarlo insieme a voi in una sfida. Il nostro push principale è sempre Hog Rider ragazzi, supportato addirittura da 3 spell, la Palla di Fuoco, il Tronco e la Zap. Con Fuorilegge e Mago Elettrico che vanno a essere posizionati dietro Log Rider, il Drago Inferno come Cartagiolli, il Pecca invece. Qualora ci fosse un capovolgimento di gioco, qualora le carte non girassero bene o qualora dovremmo difenderci dai tank pesanti. Andiamo a vederlo subito in una sfida classica da 10, vediamo un pochettino se funziona, come funziona. Siamo contro Yankook dei Ennoze Exterminator, ciao. Allora, vediamo un pochettino come farlo girare, apriamo subito con un Drago Inferno dietro, lui apre con uno Yeti sulla destra. Vediamo un po' chi ha la meglio direi di posizionare una bella fuorilegge. Viene addirittura fulminato il Drago, vediamo se la fuorilegge riesce ad entrare, sì, gli passa davanti e va addirittura ragazzi, e va addirittura. Vediamo se è buono, no, purtroppo viene frecciato dalla torre, non gli facciamo assolutamente niente. Andiamo allora anche noi a fermare un attimo il suo mago Zappa. Peccato per il Pecca, ha giocato un po' con troppa ansia, un po' con troppa ansia. Davanti ragazzi c'è, oh, Pecca anche per lui, quindi nettamente a nostro sfavore la giocata. Pecca anche per lui che può colpire il nostro Pecca senza problemi, quindi dobbiamo fare qualcosa. Possiamo lanciare un domatore di là ragazzi e ci sta, orca miseria, anche i pipistrelli c'ha, anche i pipistrelli c'ha. Qua la vedo un po' grigia per il nostro Drago. Proviamo comunque a zappare, sì che zappiamo, il Drago ha preso il suo Peccone, se lo sta bruciando. Bruciando e abbiamo difeso la torre, 1786-2006, eccezionale questo Drago Inferno che può aiutarci tantissimo nella difesa ragazzi. Aspettiamo ancora, mago elettrico per lui, quindi niente, lo lasciamo entrare, lo lasciamo entrare. Posso posizionare sopra un mio mago elettrico che quindi dovrebbe essere assolutamente più avvantaggiato grazie alla torre. Infatti il mago passa davanti e va sullo Grider, addirittura riesce a tirargli un colpo e la fuorilegge con la carica permette che lo Grider colpisca solo una volta. Tentiamo la cozzolina, tentiamo la colpo fuorilegge o Grider, vediamo se va il suino, va il suino, sì. Gli ne tira uno a 1.970, purtroppo qua avrei avuto bisogno di una zapp, ma niente, devo lasciare passare. Mi difendo con il Peccone, 1.310, 1.204, la mia torre ma Peccone dietro, lui dovrebbe giocare il mago zap, io andrei con Fire... No, gioca il Peccone anche lui, quindi andiamo avanti anche noi così. Mago Zap e Drago Inferno con Fireball a Ness, vediamo se ha senso, vediamo se ha senso. Beh, il Drago Inferno si è bruciato il suo drago, buona la cosa, buona la cosa. Andiamo a spingere un po' con lo Grider, vediamo cosa gioca lui, dovrebbe giocare dei Goblin, vediamo se ci ho visto bene, eccoli qua infatti i Goblin, andiamo a bruciarli con la zapp e lo Grider può tirare tre legnate, 8.85, 8.85, di nuovo il Drago Inferno davanti, una bella tronco e un mago elettrico. Vediamo se ci aiutano a fermare il Peccone, perfetto, Peccone bruciato ragazzi, manca lo Grider, manca lo Grider e poi c'è la nostra ripartenza, 412, 8.85, aspettiamo i suoi Goblin, aspettiamo i suoi Goblin che non arrivano, riesce a lisciare con il fulmine Logrider che non ha difficoltà a tirare giù la torre, 3, 2, 1 e ci portiamo a casa anche questa partita ragazzi. Come vedete, secondo me ha più senso giocarlo in sfida questo deck che in Ranked, perché non lo so, non lo so. Mi trovo più comodo ad esempio con il Drago Inferno nelle sfide, quindi a livello 1, il Pecca è già maxato a livello 4 e il mago zap fa veramente, veramente male nelle sfide, nelle challenge ragazzi. Beh, io spero che questo deck vi sia piaciuto, che voi abbiate apprezzato anche questo nono episodio dei deck da usare con Logrider, vi ricordo che domani purtroppo finiranno le nostre vacanze, quindi comunque siamo felici di tornare, di ricominciare a fare con voi le live. Io vi ricordo ragazzi di lasciare un bel pollicione in su, se vi è piaciuto questo video di iscrivervi al canale e noi ci vediamo domani, ciao!